C'è un topo in casa per la colpa della miccia! Ascolta, dov'è che è stato? Che schifo, che schifo! L'ha preso? No, è sotto il tavolo, è sotto il... Questa cosa! Sollevano! No, sollevano te! Che schifo! Ascolta, ma se chiediamo il topo nel tappeto e buttiamo fuori tutto? No, facciamolo divertire! Ma che facciamolo divertire? Devo andare a letto!